La scuola è il pilastro centrale di una comunità. La scuola è la struttura portante anche di un'economia civile. L'immaginazione è un talento di cui abbiamo bisogno nella finanza, nella scienza, nell'economia, nell'ingegneria. Le infrastrutture del futuro e le infrastrutture del futuro per abilitare le nuove leve a realizzarsi pienamente. In questo momento abbiamo la possibilità di creare una nuova corte di infrastrutture. Il talento è un dono e invece l'allenamento è una scelta. Pensiamo che la scienza è la bussola su cui dobbiamo andare avanti. L'innovazione è un po' come la felicità. È reale solo se è condivisa. Non riusciamo a far sì di non rincorrere il dato numerico dell'economia e basta, ma di far sì che la cultura cambi il paradigma dell'economia. Cerchiamo di tradurre la cultura di modo che diventi accessibile a tutti e rovesciamo i paradigmi anche nelle nostre città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.